In occasione della festa del papà il 19 marzo, il Centro Analisi Biochimica celebra l'importanza di tutti i papà e di tutti gli uomini, invitandoli a prendersi cura di sé attraverso un check-up salute dedicato. Troppo spesso gli uomini trascurano il proprio benessere a causa degli impegni lavorativi, ma è fondamentale ricordare che la salute viene prima di tutto. Il Centro Biochimica, per tale motivo, invita tutti coloro che desiderano prendersi cura di sé a recarsi nei giorni 18 e 19 marzo presso le sedi di Padula, Atena Lucana e Battipaglia, dove avranno la possibilità di sottoporsi ad un check-up completo per monitorare il loro stato di salute. L'invito è a non limitarsi a semplici auguri per la festa del papà, ma regalare a se stessi e alle persone care il dono della prevenzione. Un check-up all'anno può fare la differenza e diventare parte di una routine salutare che accompagnerà nel tempo. Tutti gli uomini, fanno sapere dal Centro Biochimica, sono invitati a dedicare del tempo per se stessi e investire nella propria salute, ricordando che prendersi cura di sé è fondamentale per continuare a prendersi cura anche delle persone amate.